Musica Ciao a tutti ragazzi qui ZAV e bentornati sul mio canale Come appunto stiamo vedendo ultimamente si parla tantissimo del trasferimento di Cristiano Ronaldo via dal Real Madrid Il giocatore ha avuto dei problemi col fisco spagnolo e appunto per l'immagine, perché comunque i soldi ce li ha Per l'immagine vuole essere messo sul mercato Si parla di due squadre con la possibilità economica di prendere Ronaldo, il Paris Saint Germain e il Manchester United Ok ragazzi ci siamo, siamo qua con l'invito al torneo precampionato che io ho accettato Comunque ragazzi non è in live questo video perché appunto veramente ci mettevo un casino Quando faccio questi video non li faccio quasi mai in live Comunque con il Manchester United ho deciso di comprare Ronaldo direttamente in carriera Perché di solito ragazzi lo metto subito al Manchester United Invece ho voluto provare a comprarlo adesso Comunque ho fatto 120 milioni, poi ho detto boh magari non gli bastano, non voglio perdere altro tempo Ho guardato un attimino la rosa dei miei giocatori E ho scelto Guamata Ecco ho preso uno a caso comunque Guamata più 120 milioni per Ronaldo Il Real Madrid accetta quindi almeno su FIFA Ronaldo al Manchester ci potrebbe andare Per la disponibilità economica di entrambi le squadre Perché il Manchester ha i soldi e il Real comunque accetta l'offerta Adesso vediamo se Ronaldo appunto accetterà E Ronaldo accetta Senza troppe pretese comunque Perché gli abbiamo alzato lo stipendio di poco Prende 600 mila a settimana Che ragazzi è un casino Però nel senso ci sono giocatori che chiedono anche di più perché non si vogliono muovere E adesso ho deciso di provare a fare la formazione il più reale possibile Ragazzi io sono così Voglio fare le cose in una maniera troppo realistica su FIFA Quindi dato che Ibra appunto è stato svincolato non lo metterò E metterò titolari Fellaini e Carrick Mi piange il cuore mettere Fellaini titolare eh Però purtroppo lo devo mettere perché il Manchester non ha tantissimi centrocampisti E poi ragazzi ho pensato a questa squadra Se vi farò vedere direttamente la squadra finale E ho messo Ronaldo a TT con Martial e appunto dall'altra parte Miki Drarian Perché l'altra volta mi mette rotto le palle per la pronuncia Ma scusate non sono di quelle nazionali lì Comunque come si può vedere appunto ho svincolato anche Ibra Giusto per essere ancora più in un loop realistico Adesso abbiamo una partita importante contro il Leicester Che appunto aveva vinto il campionato E noi avevamo vinto la FK o l'NFL Non mi ricordo benissimo E poi ragazzi mi sono messo in Champions con un bel giro di ferro Perché in questo bel giro di ferro ci sono Juve, Borussia Mönchengladbach e Monaco Quindi vediamo Ragazzi fate i vostri pronostici Perché io adesso sì ho simulato tutto Fate i vostri pronostici E ragazzi voglio fare un contest Chiamiamolo il contest del mio compleanno Allora andate sulla mia ultima Instagram Stories Seguitemi però ovviamente su Instagram E appunto provate a pronosticare in Champions League Dove arriverà il Manchester E anche in campionato ragazzi L'avete fatto? Nel caso mettete un attimo in pausa il video E poi tornate Comunque ragazzi ecco qua ecco qua Ci siamo e siamo riusciti a vincere il campionato con 81 punti Incredibilmente abbiamo vinto il campionato Però nel senso abbiamo fatto 64 gol Che non è il massimo perché è il massimo del Tottenham con 70 Ma ne abbiamo presi tanti ragazzi 32 gol Tanti tanti Il Chelsea ne ha presi solo 24 E infatti la differenza rete è soltanto di 32 punti Vediamo un attimino la classifica marcatori Non vedo Ronaldo Non vedo Ronaldo dove sta 12 gol C'è Rashford 13 e non era titolare E Ronaldo 12 Ah FIFA Cosa? Che poi ragazzi guardate un attimo Cosa? 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 Perché? Perché è 92 Ronaldo che era 94? Cioè è sceso tantissimo Sono curioso però di andare un attimo a vedere in tutti i tabelloni No dai abbiamo perso pure la Community Shield 1-0 con il Leicester Incredibile Mamma mia che Manchester Vediamo dai io sono curioso della Champions Allora in FA Cup non ci siamo Vediamo dai In FNL F I FL NFL Giusto NFL Abbiamo vinto Oddio 2-1 con lo Swansea Cioè ci siamo beccati tutte le squadre facili Ritorni all'Arsenal che abbiamo tutto 4-2 quindi ci sta Il trofeo dei campioni quello estivo Vabbè abbiamo perso In Champions Dove? Non ci siamo Cioè non mi dire che non siamo passati i gironi Non mi dire Dove sta? Nooo da raga Non siamo passati neanche i gironi Con 7 punti non passiamo i gironi La Juve 14 Il Monaco 10 E noi escono 7 punti 7 punti Quindi comunque terzo nel girone vuol dire Europa League E adesso ragazzi non me lo scrivate neanche perché mi sono dimenticato di farvi vedere appunto quanto siamo finiti in Europa League Però siamo usciti agli ottavi perché ragazzi se puoi benissimo vedere anche qua Se appunto tenete fisso l'occhio su Euro League ci sono due presenze dai sedicesimi ottavi Quindi siamo usciti subito anche in Europa League Cioè ragazzi guardate questo Ronaldo intanto In Premier 34 partite 12 gol Però è calato tantissimo È calato tantissimo Ha fatto anche un gol in Europa League Marziali invece cresce Rashford cresce Ma Ronaldo veramente è decresciuto E non poco Comunque il video finisce qua Fatemi sapere la vostra su un ipotetico passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United Secondo me non andrà da nessuna parte Perché il Real ormai è veramente troppo importante per lasciare andare via un giocatore di questo calibro Comunque il video finisce qua Noi ci vediamo domani con un vestito video Ciao ragazzi mi raccomando Instagram che ci tengo tanto Ciao Grazie a tutti Grazie.